Oggi stiamo discutendo della riforma del patto di stabilità e crescita ed è chiaro che andremmo verso uno sforzo fiscale che stiamo richiedendo agli Stati membri e che verrà richiesto ai bilanci degli Stati membri nei prossimi anni. A fronte di questa situazione non possiamo pretendere e non possiamo usare un altro approccio per quanto riguarda il bilancio europeo. Le risorse ci sono, l'Unione Europea deve capire che non può fare tutto e farlo male come purtroppo accade, ma deve fare meno e lo deve fare meglio. Grazie e Buon Natale a tutti.